I lavori allo stadio proseguono anche con la messa in sicurezza degli ambienti del foiare, degli ambienti interni, della tribuna, autorità, l'area, hospitality. I lavori hanno interessato tutto l'impianto elettrico, il rinnovo della pavimentazione antiscivolo e del controsoffitto, nuove uscite di sicurezza, tutti elementi in stato di evidente degrado prima dell'intervento. Un nuovo impianto di illuminazione alberbera nella scala Torre Nord, lavori nei corpi scala della Torre Nord e Sud, importanti vie di esode, uscita e servizio per tutta la tribuna coperta, con un nuovo impianto di illuminazione a LED molto più performante e luminoso del precedente. L'impermeabilizzazione del cupolone, corpi scala Torre Nord e Sud, i lavori proseguono sugli infissi e sul cupolone in plexiglass dei pieni rottoli delle due torri, ormai completamente ammalorati e con evidenti problemi di infiltrazione di acqua nel corpo scala, con la completa sostituzione e sigillatura degli stessi per ragioni di sicurezza. Si è proseguiti con la messa in sicurezza dei locali del quarto piano Torre Sud e la completa ristrutturazione del quarto piano della Torre Sud, precedentemente usata come deposito e che oggi accoglie una nuova area hospitality, che ha visto la sostituzione della cupola in plexiglass oscurante con vetri che fanno passare i raggi solari e un nuovo impianto di illuminazione a LED, un impianto elettrico a norma e di condizionamento con il restauro degli infissi con barre esterne per adeguarli ai parametri di sicurezza. Infine, ma questa non è più una novità, a marzo si è intervenuto con i lettori tornelli, efficientato completamente tutto il sistema di accesso ai tornelli dello stadio con l'introduzione di prese lettori metallici che indirizzano il percorso finale degli spettatori e impediscono il sovraffollamento nei pressi del tornello. Dotati già dallo scorso campionato dei lettori digitali Zucchietti, impresa leader in Italia, per la lettura del biglietto elettronico.